per i controlli. Quindi mi reputo soddisfatta della risposta tenendo conto che il decreto attuativo che va in quella direzione, oltre a dare un maggiore efficientamento delle visite di controllo sia ai dipendenti delle aziende private che pubbliche, darà anche maggiore certezza ai circa 1.400 medici fiscali che vedevano diciamo meno garantito e più stabile il loro rapporto di lavoro. Quindi efficientamento della pubblica amministrazione e maggiore stabilità per appunto rapporti di lavoro importanti per l'Inps e per le visite di controllo. Grazie. La ringrazio. A questo punto passiamo all'interpellanza 2.1117 agli onorevoli Russo ed altri. Concernate problematiche riguardanti la gestione della Fondazione Ravello. Onorevole Paolo Russo, credo che intenda illustrarla. Prego. Sì, Presidente. Ragioniamo di una delle più importanti istituzioni culturali del nostro Paese che nasce nel 2002 e di cui facevano parte la Regione Campania, la provincia di Salerno, il Comune di Ravello e la Fondazione Monte dei Paschi. Poi la Fondazione Monte dei Paschi di Siena nel 2010 esce e nel 2007 entrano a far parte l'ente provinciale del turismo di Salerno e il Ministero dei beni culturali. Prima per il tramite della sovrintendenza di Salerno e poi per la direzione regionale dei beni culturali e paesaggistici della Campania. In forza di tali rappresentazioni, nel Comitato di indirizzo della Fondazione dal 2007 è suggerito, nominato, presente un membro, nominato prima indirettamente e poi direttamente dal Ministero dei beni culturali. In ragione di tutto questo è stata concessa alla Fondazione Ravello la gestione di un prestigioso monumento che è Villa Rufolo, di cui sono proprietari per quota parte l'ente provinciale per il turismo di Salerno e per la parte demaniale il Ministero dei beni culturali. La Fondazione di Ravello ha ottenuto risultati straordinari, brillanti, oserei dire eccezionali in termini di realizzazione del famosissimo ormai sessantennale Ravello Festival che rappresenta ormai sul piano nazionale e internazionale uno dei fari, uno degli elementi attrattivi anche dal punto di vista non solo culturale ma anche dal punto di vista turistico. E altro elemento straordinariamente positivo è rappresentato dal modello di gestione proprio di quello straordinario monumento che è Villa Rufolo che vive un momento felicissimo per la complessa e anche per la complessiva mole di lavori, di interventi realizzati con un modello gestionale di straordinaria efficienza. Parliamo di attività e di interventi ormai in piena esecuzione dopo cento anni, dico cento anni, di assoluto immobilismo e di totale degrado. Tutto quanto io vado raccontando è tanto vero che lo stesso Ministro interrogato quest'oggi nel luglio 2014 in occasione di una sua visita, di un suo sopralluogo, ebbe a dire la fondazione Ravello è un modello da seguire. Ci preoccupano viceversa gli accadimenti dell'ultimo mese che stanno gettando ombre, lasciatemi passare questa espressione, sinistre, drammaticamente gravi su una storia che viceversa era una storia tutta da incorniciare, era un modello da rappresentare, era un esempio da indicare al nostro Paese e al mondo intero sul come valorizzare straordinari opportunità e potenzialità culturali del nostro Paese e come rendere queste opportunità fruibili da una parte, ma anche occasioni dal punto di vista anche economico. Dalla stampa si legge che il Segretario Generale della Fondazione ha trasmesso una serie di note al Ministro che interroghiamo, quale è appunto rappresentante istituzionale del Ministero, e da queste note emergerebbero fatti che, qualora siano confermati, obiettivamente hanno dei risvolti inquietanti. Insomma, ci sarebbe un feroce tentativo di far diventare un soggetto, come abbiamo definito, esclusivamente culturale, un modello, il solito carrozzone politico, dapprima tentando di etichettare come politica la precedente gestione, che peraltro ha visto come Presidente proprio il Presidente Renato Brunetta e che ha segnato prestigiosi risultati culturali, risultati economici, traghettando una fondazione che aveva di fatto un disavanzo di oltre 500 mila euro verso una fondazione inattivo, nonché, traghettando una fondazione monocorda che si occupava soltanto del Ravello Festival, ad una compiuta fondazione poliedrica affiancando al Festival prestigiosi ed ulteriori eventi, ma soprattutto realizzando e concretizzando un modello gestionale di beni culturali quasi unico nello scenario italiano. E si vorrebbe giustificare l'attuale governance in una logica del peggiore turnover. Questa volta, questa sì, mi pare, tutta azione politica. Ma intanto, così come si legge dalla stampa, i primi due mesi sarebbero stati utilizzati dal nuovo corso, con procedure di urgenza, per defenestrare anticipatamente, ad ogni scadenza contrattuale già prevista, i protagonisti della precedente gestione, per tentare di spendere immediatamente le risorse rinvenute, frutto viceversa di attenta e scrupolosa gestione, tralasciando invece le azioni veramente urgenti, volte a dare garanzie e supporto alle importanti attività in corso e assegnatamente quelle riguardanti il bene monumentale Villarufolo, alle emergenze, alle urgenze rappresentate e così rimaste disattese. E allora si interroga il Ministro per sapere quali iniziative di propria competenza intenda rapidamente intraprendere, per porre freno a quella che sembra, secondo quanto appena riportato, possa essere una deriva pericolosa che, guardate, non solo travolge la Fondazione Ravello in nome, come dire, della politica, ma finisce per travolgere uno degli esempi più fulgidi di un modello gestionale, una vera eccellenza dell'offerta culturale italiana, un monumento fiore all'occhiello del ricchissimo patrimonio nazionale. Noi vorremmo sapere come e quando intende intervenire per garantire che quella Fondazione continui a essere quel faro di eccellenza come è diventato negli ultimi anni. Grazie. Grazie Presidente. Con l'interpellanza parlamentare presentata il 13 ottobre scorso, l'onorevole Paolo Russo chiede al Ministero dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo quali iniziative intenda intraprendere al fine di frenare una deriva pericolosa che, travolgendo la Fondazione Ravello in nome della politica, finirebbe per travolgere uno degli esempi più fulgidi di modello gestionale, una eccellenza della cultura italiana. Preme in via preliminare sottolineare che le questioni sollevate nell'atto parlamentare, con particolare riferimento alle problematiche di tipo gestionale della Villa Rufolo, non attengono direttamente alle competenze istituzionali dell'amministrazione dei beni culturali in quanto la Fondazione Ravello, costituita da Regione Campania, Provincia di Salerno e Comune di Ravello, è una persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e come tale sottoposta al controllo e alla vigilanza della Regione Campania, a norma dell'articolo 25 del Codice Civile dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Giunta regionale numero 619 emanato in data 22 settembre del 2003. La Fondazione Ravello, quindi, non rientra tra gli istituti vigilati dal Ministero attraverso la propria direzione generale, biblioteche ed istituti culturali, ed il senso di un'attività di un'attività di un'attività di un'attività